Sarà presentato sabato alle ore 19.30 presso il Museo Archeologico di Ponte Cagnano-Faiano il progetto Museo Senza Limiti, iniziativa che attraverso la valorizzazione dei luoghi interessati da importanti scoperte di scavo si propone di portare il museo nella città e di accompagnare la comunità di Ponte Cagnano-Faiano alla scoperta del patrimonio culturale del territorio. A seguire i partecipanti potranno visitare la mostra documentaria La città nel museo, percorso nei luoghi archeologici di Ponte Cagnano-Faiano.